E c'è chi ha rinunciato al ruolo di testimonial di Expo 2015 perché ritiene che la grande esposizione universale non affronti le vere problematiche riguardanti i paesi più poveri. I motivi per i quali avevo accettato di aderire a questa iniziativa era l'idea che il sud del mondo fosse in qualche maniera preservato, protetto, ospite d'onore in una manifestazione come questa, che ci fosse attenzione alle esigenze di chi il cibo che noi mangiamo lo produce, lo fa, lo realizza e spesso non arriva neanche a mangiarlo. Fondamentalmente mi sembra una grande fiera di food and beverage in cui l'alimentazione del pianeta è intesa come il magna magna.